Secondo appuntamento con la Jolly Blue, la discoteca senza alcol, nata lo scorso mese all'Oratorio San Gabriele, grazie a Noi Oratorio Arco, che è stato un nuovo successo. Con un'età compresa tra gli 11 e 18 anni, che hanno partecipato al Flow Party, in una serata all'insegna della spianciaratezza sana ed educativa. La parrocchia crede molto in questa forma alternativa di divertimento, ha commentato il Presidente di Noi Oratorio, Franco Righi. Ma sono soprattutto gli animatori più grandi ad esserne convinti e ad impegnarsi una sera al mese fino a tarda notte per organizzare e riordinare. Aspetto rilevante sotto il profilo pedagogico anche l'orario, dalle 21 all'una di notte. Sono questi i motivi principali per cui le famiglie sono contenti di mandare qui i propri figli, ha aggiunto Righi. Sono sotto controllo, in un luogo sicuro e vicino a casa, non bevono, non assumono sostanze pericolose e non tornano nel cuore della notte. Insomma, un divertimento sano. Il prossimo appuntamento con la Jolly Blue è fissato per sabato 27 maggio.